bene e benvenuti a questo nuovo appuntamento con i saggi online della scuola di musica del garda oggi avremo il piacere di ascoltare i nostri fantastici violinisti allievi della super maestra mattarina fasoli quindi sono molto pronti e molto agitati per questo appuntamento che li vede di fronte al pubblico mediatico che è un pubblico immenso e quindi direi di non perdere altro tempo e di augurarvi assolutamente buon ascolto sono tutti pronti ok come dici ok te lo passo subito se hai dimenticato una cosa te la passo subito bene buon ascolto grazie a tutti 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 grazie a tutti